Per due giorni 5 punti della città della fortuna saranno animati da musica, spettacoli e specialità gastronomiche proposte da altrettanti locali. Fervono i preparativi dunque per la tradizionale festa dei quattro cantoni che quest'anno si svolgerà giovedì 6 e venerdì 7 agosto nel centro storico di Fano. Ormai nella tradizione di Fano consentiranno un po' di girare dall'offerta del fritto alla braccia, alla piadina, al pesce e quindi sarà un modo per stare insieme, per entrare nella settimana di ferro-agosto sostanzialmente visitando un po' gli angoli più suggestivi del centro storico. Dal tardo pomeriggio Corso Matteotti, Pincio, Via Cavour, Piazza Marcolini e Via Diamices si trasformeranno con le iniziative organizzate dagli esercenti e questa sera scopriremo i primi due angoli o meglio cantoni partendo da quello della braceria gestito dal Pinobar grazie al gemellaggio con Monte Cucco. Ci troviamo bene sia noi che loro, la gente è contenta, continuiamo così, squadra vincente non si cambia mai no? Chi sarà di intrattenere queste due serate? Allora abbiamo una serata con Rodolfo Canestrare che è un cantante lirico, canta un po' tutto con la sua compagna la prima sera e la seconda abbiamo Diamantini, Mattia che fa ballare un po' tutti per far digerire quello che mangiano. Il cantone del fritto invece nella zona Pincio sarà curato dal ristorante La Perla. Quest'anno se vogliamo puntare sul fritto soprattutto perché siamo ormai esperti in questa materia dove andiamo portiamo il fritto perché non portarlo anche ai quattro cantoni di Fano, però un piatto unico dove la gente può mangiare di tutto risparmiando e passando una bella serata. E anche al Pincio non mancherà la musica? Al Pincio abbiamo puntato su dei giovani, di promozione dei giovani, abbiamo trovato due DJ ragazzi che sono disponibili a suonare tutte e due le serate e poi per dare un po' una spinta sempre nel settore dei giovani abbiamo messo due ragazze che fanno l'uscita, due o tre uscite che fanno la danza del ventre, una il giorno prima e una il giorno dopo. Per informazioni è possibile contattare l'ufficio turismo al numero 0721 88 73 14 oppure lo IAT Fano allo 0721 80 35 34.